La cremo non demerita nella tana dell'Alessandria, disegnata con un 3-5-2 che funziona e non concede nulla ai quotati avversari, ma sul risultato pesano le decisioni dell'arbitro vagliante di Nocera Inferiore, in particolare il metro diverso adottato nel distribuire i cartellini e soprattutto il più che dubbio calcio di rigore concesso nel finale ai grigi e rivelatosi decisivo. La prima emozione è subito un episodio da Moviola. Mora tocca con un braccio in aree al 22esimo, l'arbitro lascia correre. La cremonese gioca bene, affronta con l'atteggiamento giusto una deludente capolista. Kirilov ci prova su calcio di punizione, poi Nordi si supera per evitare un possibile autogol di Morero sugli sviluppi di un cross di Favalli. Al 36esimo il primo episodio decisivo. Marconi scalcia da terra Palermo a gioco fermo, il grigio rosso reagisce e viene espulso, mentre l'avversario la fa franca. L'arbitro espelle anche Quaini dalla panchina per proteste e prima del riposo i locali creano la prima palla a gol, ma Galli è bravo in uscita a fermare Marconi. Nella ripresa D'Angelo imbottisce di punte la sua squadra, alla ricerca della vittoria. Marconi di testa impegna subito Galli su cross di Nicolao. I grigiorossi, nonostante l'inferiorità numerica, pungono in contropiede con Favalli. Nordi si salva in corner. Al 66esimo Morero di testa va a segno, servito da Iunco su punizione, ma l'arbitro annulla per fuori gioco. L'Alessandria insiste e colpisce il palo con un colpo di testa di Marconi al 76esimo. Passa un minuto e arriva l'episodio che decide il match. Contatto in area tra Briganti e Marconi, che sembra cercare il penalty lasciandosi cadere a terra. L'arbitro ci casca e indica il dischetto, ammonendo Briganti, che era in diffida. Giampaolo protesta e viene espulso. Rantier spiazza Galli e fa 1-0 per l'Alessandria. Prima del triplice fischio c'è tempo per un altro show dell'arbitro. Gambaretti interviene sul pallone e si becca ingiustamente il secondo giallo. Sconfitta amarissima per la Cremonese, agganciata dalla Giana in classifica. I Grigiorossi hanno vinto una sola volta nelle ultime dieci giornate. Mercoledì si va a Monza, un match da vincere ad ogni costo.